Alessandra Ambrosio in palestra, ecco l'allenamento da Angelo Ecco una meravigliosa Alessandra Ambrosio per il suo allenamento da Angelo di Victoria's Secret, la Maison di moda più in del momento ha lanciato una diretta della seduta in palestra della brasiliana. Ecco i suoi esercizi preferiti. . Alessandra Ambrosio, anche gli angeli vanno in palestra. Top grigio perla, le jeans total black e coda altissima, ecco outfit e beauty look di Alessandra Ambrosio, prontissima per la sua seduta in palestra in diretta sul profilo Facebook di Victoria's Secret. La bellissima modella brasiliana è affiancata da una fitness icon, Tracy Anderson, che guida il training della 36enne e illustra tutti gli esercizi da eseguire. Alessandra è frizzante e allegra come sempre e porta quel brio tipico della terra carioca che le ha dato i Natali anche in palestra, lo sapevate che era anche una sportiva? Forse no, ma di sicuro nessuno si stupirà per il fatto che, anche in un contesto di questo tipo, la sua bellezza e sensualità la fanno da padrona. Il suo abbigliamento è sporty, ma non per questo meno sexy visto che mette in evidenza tutte le qualità della sua fantastica silhouette, provvista di un addome già perfettamente piatto, sicurale, di aver bisogno di fare allenamento? Ovviamente, per belle apparire un poco si deve soffrire e, quindi, eccola impegnata nel video della sua seduta ginnica. Il workout tocca ogni muscolo del corpo, con esercizi mirati, ma partiamo dallinizio. La Ambrosio incanta subito tutti i suoi fan, visto che il primo step prevede di sciogliere il bacino e il torace, la modella dimostra di conoscere perfettamente il suo fisico e di saper coordinare ogni movimento alla perfezione. Si passa alle braccia, con movimenti volti a tonificare i bicipiti e i muscoli della schiena, ovviamente, tutto a ritmo di musica. Un attimo di pausa e, poi, è il momento di prendere dei piccoli pesi ed eseguire slanci delle braccia verso lalto e verso il basso, le ragazze entrano nel vivo. Lallenamento prosegue a terra, Alessandra è al top. Un piccolo momento di pausa, poi, Alessandra Ambrosio e la sua fitness coach si sdraiano a terra sul tappetino, anch'esso griffato Victorious Secret ovviamente. Anzi, Victorious Sport per l'occasione. Tracey insegna ad Alessandra un esercizio perfetto per tonificare il lato B a che se, a dire la verità, forse la Ambrosio non ne ha davvero bisogno viste le perfette curve del suo fondoschiena spesso esibite nei suoi viaggi all'estero. L'esercizio perfetto? Quello che esegue la brasiliana, in appoggio su gomiti e ginocchia slanciando alternativamente i piedi verso lalto. Fine, per concludere lallenamento per tutti i muscoli delle gambe, ecco lultimo step eseguito dalle due ragazze, l'esercizio consiste nel partire da seduti, con le gambe leggermente divaricate, e di spingere verso lalto con un forte slancio e colpo di reni, arrivando a creare una sorta di ponte con il proprio corpo. . Alessandra Ambrosio pare apprezzare particolarmente l'allenamento da Angelo, la sua grazia e la sua eleganza portano Tracy ad esclamare potresti essere una ballerina. Sangue brasiliano non mente, ovviamente, e siamo sicuri che anche i fan della mamma di Ania e Noah siano d'accordo con le Anderson. Il workout è concluso e la fitness icon si gira verso la sua allieva dicendo hai visto, sei sopravvissuta. . Oh mi god risponde Ale, ma non sembra poi così affaticata, l'angelo più sexy di Victoria's Secret ha brillato anche in questo sportico contest. . . . .